Coccodrilli a Bologna tra pesci d'aprile e sconvolgenti realtà, sì, ma paleontologiche. Nel 2017 sulla pagina Facebook di un gruppo di universitari bolognesi comparve un post con questo titolo, incredibile, un coccodrillo sui navili di Bologna. Il post era accompagnato da un video sconvolgente, un gigantesco loricato che teneva tra le fauci il cadavere di un cagnolino nero. Secondo gli universitari il video era stato filmato proprio a Bologna poco fuori dal centro storico, in uno dei pochi tratti scoperti del canale Navile. Il post in breve tempo diventò virale e furono indiversi a sostenere di avere visto anch'essi il terribile rettile. Soltanto dopo molto tempo qualcuno si rese conto che, il filmato fu pubblicato il primo aprile. Pesce. Il filmato fu ripreso in tutt'altro luogo, il Messico, è astutamente spacciato come fatto bolognese dai goliardi universitari. Fatto sta che a Bologna in effetti c'è davvero un coccodrillo, ed è il più vecchio del mondo. Si tratta di un esemplare fossile custodito nel Museo Geologico dell'Università Petroniana, e noto con il nome scientifico di Metriorincus.